sulla santia poi si costruiva la mia nascita una volta e poi non ho ragionato andava a prendere andava a prendere e andava a rinversare a rinversare a rinversare e poi si andava a rinversare e mi dice ah mi sento qui non mi resta qui e per quanto sei che so non vedi quanto fa il mare ma come vai a rinversare e poi quel bambino e tu guarda tutto la vita anche se sei un figlioso anche se sei un grande sacchetto di teologo sotto la tua venta di vita vuoi comprendere questo mistero della santissima dignità per il quale il mistero ci ha raggiunto vi dedico una bella ragazza capite sta andando si che quel mistero di grado quel mistero di profondo quel mistero che in grado in conferenza di la vita hanno nemmeno male nel mondo che cari si vedete che ci sono fiori belli ci sono molti pregiati ci sono molti pregiati che fanno venire la roba anche da come nel nuovo questo per dire e soprattutto vedete tutti questi sono tutti segni della roba nella vita di Dio però dobbiamo dire che nessuno nessuno di questi due nessuno di questi due Dio però nel nostro cuore Dio ha voluto prendere le cose in ciascuno di loro e allora in grado voglio concludere desideri ogni cuore della sua stessa e vorrei concludo proprio con quella bella esercizio della vostra Paola in quella benedetta ai primi fatemi questa cosenza di Dio prendere il nostro cuore grazie a tutti voi dovete vedere che dovete essere gioiosi dovete vedere la tradizione dovete darvi il caraggio al cittadone dovete avere gli stessi sentimenti e soprattutto soprattutto in questa maniera la pace di Dio sarà nel nostro cuore se osserviamo queste cose e se agitiamo queste belle esortazioni di Dio credo che l'amore di Dio e la presenza di Dio in ciascuno di noi sarà veramente in pace e la presenza di Dio e la presenza di Dio e la presenza di Dio di Dio e la presenza 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 di Dio benefit di Dio e la presenza di Dio а fratelli e sorelle a Tconsci ¡servirò del Ness thanheta! Per te, per te, vasso e te, vi è un po' di più, della buona nascita di testo, e lo sospettino. Assoluta! Per te, te, geniti e te lo sospettino. E l'impe l'amore, con il testo, con la carità, con la carità, con la carità. Assoluta! Per te, non so, non so, non so, non so, non so, non so. Grazie. Per i nostri fratelli vanno bene vita e caro perché siamo ascolti amorevolmente tra le tracce amorevole del Dio Padre, il Dio Dio, il Dio dello Spirito Santo. Vediamo. Amorevole. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti